Dico subito per ovvi ragioni di conflitto di interesse che io ho conosciuto il professor Monti molto recentemente in un seminario che abbiamo fatto insieme allo European University Institute alla Badia Fiesolana, fu pochi mesi fa rappresentiamo due generazioni probabilmente diverse, rappresentiamo due istituzioni in amichevole competizione quindi è solamente una ragione puramente scientifica e disinteressata che ci ha portato come School of Government a chiederle gentilmente di partecipare a questa iniziativa e di riflettere con noi e con i nostri ragazzi su quell'esperienza. Quindi per me è un grande piacere ma devo dire anche che è un grande onore averla qui come ospite. Io ho pensato ad una sorta di scaletta, ovviamente lei è libero di affrontare questa scaletta, le domande che lei offro di interpretarle come ritiene opportuno. Cominciamo dall'inizio. Quando il Presidente Giorgio Napolitano l'ha chiamata per informarla della sua decisione di nominarla a Senatore Avito che cosa ha pensato? Dove si trovava? Che impressione ha avuto? Ha sentito in quel caso, in quel momento, che quella nomina di Senatore Avito l'avrebbe portata molto presto ad un ruolo di Primo Ministro in Italia. Desidero ringraziare molto la LUIS, il suo Rettore, il Professor Egidi, il Professor Fabrini che ha preso l'iniziativa di questa occasione di studio e di confronto su un tema che naturalmente ha visto i miei colleghi ministri e me profondamente e appassionatamente coinvolti. Quindi questa occasione di riflessione tendenzialmente più fredda è molto benvenuta. E quando il Presidente Napolitano mi ha sconato per comunicarmi l'avvenuta firma in quell'istante del decreto di nomina a Senatore Avito, era il 9 novembre del 2011, mi trovavo a Berlino per un'occasione scientifica, avevo appena partecipato a un convegno in onore del Professor Ralf Darendorf presso una Università di Berlino. Quello giorno lo spread si trovava a 574 punti. I giornali da tanto tempo erano pieni, non solo i giornali italiani ma tutta la stampa e i media internazionali erano pieni di notizie apprensive sulla crisi dell'Eurozona e sull'opposizione dell'Italia in questa crisi. Diversi organi di stampa avevano da tempo formulato, tra gli altri, ma non sono sicuro che ci fossero tanti altri, il mio nome come possibile persona esterna al mondo della politica alla quale eventualmente sarebbe stato fatto ricorso. Quindi quando ho ricevuto quella telefonata dal Presidente Napolitano, oltre alla forte emozione per questo riconoscimento che mi veniva da una personalità che per me è sempre stata un faro per la vita pubblica europea e italiana, non credo di avere completamente dissociato quel fatto realizzatosi quel giorno da eventuali fatti successivi e il Presidente mi ha detto sarei molto lieto di vederla domani a Roma. Non sarebbe durato un secondo giorno, me ne sono privato e ho cominciato a rivolgere le mie attenzioni verso un mondo più applicativo. Chi era il Mario Monti che fu nominato Primo Ministro il 16 novembre 2011? Era un tecnico, un economista oppure un policy maker pronto ad assolvere una funzione politica? Lei aveva già assolto importanti funzioni di policy maker come commissario europeo, ma il ruolo di Primo Ministro, io mi scuso ma penso che c'è una Costituzione materiale che fa qualche volta agio su quella formale e oggi il Capo di Governo ha una funzione evidente, ma il ruolo di Primo Ministro ha una valenza politica di gran lunga superiore a quella di commissario europeo. Era consapevole di questo salto di qualità anche dal punto di vista cognitivo, intendo, che un policy maker alla Commissione europea è diverso da un Primo Ministro? Ero consapevole e d'altra parte ero anche consapevole del fatto che un commissario europeo che ha esercitato quella funzione per due mandati, cioè per dieci anni, come ricorda il Presidente Napolitano in questa lettera per la quale anche lo ringrazio, che mi sembra densa di molto significato, una persona che ha svolto quella funzione, come richiama il Presidente Napolitano, ha svolto un'attività di governo, sia pure in una governance europea e non in una governance nazionale. Direi che quella funzione, soprattutto nel mio secondo mandato, quando ero commissario alla concorrenza, mi ha dato probabilmente, sto cercando di riflettere sul mio stato d'animo nell'aver ricevuto quella telefonata e nell'estrapolare quello che forse sarebbe successo a giorni o ad ore. Probabilmente quell'incarico europeo mi aveva dato, oltre ad una certa dimestichezza nei rapporti tra istituzioni, il commissario va molto spesso al Parlamento europeo, partecipa al Consiglio dei Ministri, dove partecipano appunto i governi degli Stati membri, mi aveva dato in quella funzione alla concorrenza, che è quella più ricca di potere decisionale tra tutte le funzioni della Commissione europea. Speriamo che un giorno anche la politica estera e della difesa abbia un tale contenuto operativo, per ora non è così. Ebbene, mi aveva dato, credo, una capacità di affrontare decisioni difficili senza farmene travolgere e immaginavo che questo sarebbe stato molto necessario nell'eventuale svolgimento di un mandato di capo di governo, soprattutto in quel momento. Non ho, devo dire, riflettuto sulla distinzione tra tecnici e politici. Non so se questo è il momento... Io ho sempre avuto la passione del policy making, anche da economista non ho mai privilegiato gli studi astratti e teorici, ma sempre il momento applicativo. Quando ho accettato la designazione a commissario europeo la prima volta nel 1994 da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi, la seconda mi è venuta cinque anni dopo da parte del Presidente del Consiglio D'Alema, l'ho fatto perché non solo credevo molto nell'Europa, ma vedevo lì la possibilità di fare una vera azione di policy, politica in senso ampio, senza passare per le strettoie di un partito politico, che a ragione o a torto non vedevo come il mio habitat naturale. Allora, ma questo non significa che io mi fossi considerato negli anni privo di pensiero politico. E vorrei dire che quando poi, di lì a poche ore, sono stato incaricato di provare a formare un governo. Certo non ero membro eletto di un Parlamento, lo ero diventato poche ore prima per volontà del Capo dello Stato, ma il pubblico, compresi i parlamentari, potevano conoscere il mio, la mia idea politica, il mio disegno politico, onestamente molto ma molto più a fondo di come gli elettori conoscano di solito la visione politica di un candidato ad elezioni parlamentari che poi magari nel corso dei 4 o 5 anni della legislatura cambia una, due, tre volte partito e quindi visione se ne aveva avuta una in partenza, come moltissimi per fortuna anno. In quella situazione io penso di essere stato chiamato perché avevo manifestato pubblicamente nelle settimane precedenti la mia visione della politica per l'Italia in quel momento. Certamente sono stato chiamato come non politico ma avevo manifestato una visione politica. Qual era? Chi avesse la curiosità anche oggi può in un articolo di Federico Fubini, ma ci sono stati altri articoli che davano conto di un dibattito a Cernobbio il 5 settembre del 2011, trovare traccia di questo. In quel dibattito a quel dibattito partecipavano il ministro Alfano, il presidente Casini e il vice segretario del PD Enrico Letta. Manifestavano il disagio nella constatazione della difficoltà per il governo dell'epoca e per i governi dell'epoca in generale di prendere misure che tutti più o meno ritenevano necessarie. Io intervenni, non ero neppure relatore ufficiale quella domenica mattina e dissi quello che secondo me, ma penso di aver detto un'assoluta banalità, quello che secondo me sarebbe stato necessario per l'Italia in quel momento, in particolare che sul riassetto delle pensioni d'anzianità c'è soprattutto l'opposizione del PD, mentre l'ipotesi di una patrimoniale non piace al centrodestra. Monti si è chiesto, dice Fubini, non è la politica che dovrebbe lavorare sul concetto di un pacchetto di misure. Nell'Italia minacciata dalla sfiducia dei mercati, ciò significa, nelle mie parole, di quel giorno un disarmo bilaterale. Singolarmente prese certe misure possono essere indigeste a questo o a quello, ma messe insieme possono produrre un pacchetto complessivo per gli obiettivi del risanamento e della crescita. Questo, bene o male, è esattamente il piano politico che con il sostegno del Parlamento, dopo l'incarico del Presidente Napolitano, abbiamo presentato e attuato nel corso di un anno di, come ricordava anche il Ministro Moavero con alcune cifre, di un'unica a volte verbalmente lesinata ma abbondantemente concessa al momento del voto. Quindi l'idea di un governo, una maggioranza alla quale partecipassero le forze di destra, le forze di centro, le forze di sinistra, tendenzialmente tutte le forze, poi alcune hanno deciso di non partecipare, legittimamente. Ovviamente non poteva presiedere un governo, una maggioranza di questo tipo, un personaggio politico che appartenesse all'uno, all'altro, all'altro dei partiti. Ci voleva qualcuno che avesse maturato di governo, come dice il Presidente Napolitano, in un contesto diverso da quello nazionale e che perlomeno provasse a far lavorare le diverse forze con un obiettivo comune. Quindi mi trovavo nella stranissima situazione di qualcuno che si sente estraneo al mondo della politica. Non le dico l'emozione che ho avuto quando mi sono presentato il 17 novembre al Senato prima e alla Camera dopo per presentare il nostro programma e per chiedere la fiducia. Quindi profondo senso di, se vogliamo, di smarrimento, ma anche di grande sicurezza, perché in quel momento la politica non era in grado di produrre una soluzione, è stato detto. In più mi sentivo non estratto a sorte, ma scelto con una scelta che si sarebbe dimostrata o buona o cattiva, nessuno poteva saperlo, sulla base dei convincimenti manifestati nel corso di decenni su come dovrebbe funzionare un'economia di mercato sociale competitiva e nel corso delle precedenti settimane su come quel modello potesse applicarsi nella emergenza italiana. Quindi avevo la profonda convinzione, per usare la terminologia del professor Orsina di oggi, che in quel momento, ma in generale, gli italiani hanno molta domanda di governo. In genere c'è poca offerta di governo, perché il sistema politico difficilmente offre decisioni che sono all'altezza delle sfide. E in genere è più facile farlo questo quando c'è l'emergenza, che in sé è scomoda, è difficile da vivere, però naturalmente... Quindi ci siamo visti come possibili fornitori dal lato dell'offerta di decisioni politiche. Poi veniva la tecnica. Ma dire ci vorrebbe contemporaneamente una profonda riforma delle pensioni e un po' di imposta patrimoniale e un serio upgrade negli strumenti di lotta all'evasione fiscale e non ha proprio niente di tecnico, è tutto politico. E questo, proprio perché includeva elementi, diciamo, costi politici per la sinistra in alcune componenti delle misure, costi politici per la destra in altre. Io non sono uno scienziato della politica, ma penso che avessi vantaggio, questa formula di coalizione ampia con pacchetto di misure, di ridurre per ciascuna delle parti il costo politico del dire sì, perché dicendo sì, ciascuno si giocava a una parte di simpatia nelle proprie constituencies, ma quello che conta è il costo politico netto, cioè al netto di quanto l'avversario perde nelle sue constituencies. C'è chiarissimo, però magari vorrei, se mi consente di arrivare, diciamo adesso, a livello più strettamente della formazione del governo, per vedere poi questo passaggio. Quindi noi sappiamo che il Mario Monti che accetta l'incarico è sì un policymaker, ma con una sua visione politica, che era venuto anche definendo in più occasioni, penso, ricordo i suoi articoli in prima pagina sul Corriere della Sera, cioè i vari tentativi di mettere a punto una sorta di programma di governo. Poi però c'è un periodo, mi pare di ricordare, che non era sicuro che il governo che lei doveva presiedere fosse un governo tecnico, c'era ancora la possibilità, c'era una discussione sulla possibilità di avere un governo in qualche modo costituito di politici, un governo misto, oppure ricordo che c'erano due nomi che giravano, tra cui Giuliano Amato e in quest'altro caso Gianni Letta, che potevano essere parte di questo governo. Insomma, come mai in questa fase di formazione, cerco di seguire un percorso logico, ma come mai in questa fase di formazione alla fine si arrivò al governo costituito esclusivamente di tecnici? Non era quello il mio obiettivo. Avevo chiarito bene al Presidente della Repubblica che avrei cercato di coinvolgere le personalità più affidabili, competenti, ma anche adatte ad un gioco di squadra e ad affrontare l'opinione pubblica in un momento di grande difficoltà per il Paese, come quelle che tutti hanno potuto vedere qui oggi e altri. Ma avrei anche voluto avere, proprio perché non mi piace l'espressione tecnico e non mi piace l'espressione governo tecnico, avrei preferito avere un governo nel quale alcune personalità politiche della destra, del centro e della sinistra, da me indicate ai rispettivi segretari politici e poi sottoposte nel caso di loro assenso al Capo dello Stato, potessero arricchire la compagine dotata di ministri prevalentemente non parlamentari, non politici. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto, credo, per due ragioni. Lo dico con profondo rispetto nei confronti di un mondo politico che stava vivendo una stagione veramente molto pesante, anche psicologicamente. C'era il problema della foto di famiglia, cioè non era considerato accettabile né dal PDL né dal PD, il centro poteva accettarlo, di essere visti che loro esponenti fossero visti far parte di un governo accanto a esponenti del partito contrapposto col quale c'era stata un'abitudine di insulti e di delegittimazione reciproca e non di rispetto e di collaborazione. Con parole praticamente identiche, l'onorevole Bersani e l'onorevole Alfano mi dicevano che la nostra base non lo regge. Credo che ci fosse anche la ragione della previsione non infondata che le misure che il nostro governo avrebbe dovuto prendere sarebbero state, fin dall'inizio, anzi soprattutto all'inizio, misure impopolari. Quindi devo dare atto comunque di un grande senso di responsabilità posseduto dai partiti in quella fase perché hanno accettato di dare voti abbondantissimi alla fiducia al governo e alle singole misure ma quello è meno sgradevole politicamente che essere visti far parte di un governo o magari essere i ministri responsabili della presa di certe misure per esempio in materia di riforma delle pensioni. Quindi siccome vivevamo una stagione nella quale si sapeva che il governo al massimo sarebbe arrivato alla primavera del 2013 quando si sarebbero tenute le elezioni ma veniva anche prospettata l'idea che ci potesse essere staccata la spina prima la propensione dei partiti ad identificarsi con misure che ritenevano necessarie ma che consideravano giustamente impopolari era molto scarsa. Questa è la ragione per cui mi sono trovato nella compagnia stretta ed estremamente qualificata di ministri non politici. È stato un bene, è stato un male. Questo veramente è una domanda che non mi ha fatto quindi... La sottoscrivo come se... E poi soprattutto come ha scelto i ministri tecnici? Come sulla base di rapporti personali, conoscenze, sentimenti, amicizie? Come è arrivato a... Per me i sentimenti e le amicizie non devono esistere nella vita pubblica. Tra parentesi, in quello che è diventato noto anche per la superficialità di molti media come il governo dei bocconiani, non c'era un solo professore della Bocconi al di là, ahimè, del sottoscritto. Perché non volevo minimamente coinvolgere la mia università in una operazione rischiosa, rischiosissima. Sono stato più liberale nella scelta di personalità accademiche della sua università da allora in organico o che lo sarebbero diventate successivamente. Quindi, amicizia no, sentimenti men che meno. Criteri. Possibilmente persone che io conoscessi comunque. Allora, in qualche caso mi è stato abbastanza facile. Per esempio, cercavo un ministro del lavoro e della sicurezza sociale che fosse particolarmente versato nelle questioni delle pensioni al quale o alla quale poter dire tu in 15 giorni mi produci una riforma. E immagino l'attenzione che su questa signora quella domanda abbia potuto determinare. E non so se sia ancora in collegamento. Questa volta Elsa mi commuovo io quindi non ti guardo. Assolutamente incivile e indegno il trattamento che molti nel Paese hanno riservato e riservano alla persona che è stato un lavoro collettivo ma se dovesse indicarne una che con le proprie decisioni ha consentito all'Italia di non essere la Grecia è la professoressa Forniro. Un applauso. Trovavo la settimana scorsa a Tokyo e ad una cena ho incontrato i rettori di diverse università di Tokyo il professor Seike rettore della Keio University che è professore di economia del lavoro e della previdenza sociale quasi prima di salutarmi mi ha detto di salutarmi all'inizio dell'incontro mi ha detto congratulazioni per la vostra riforma delle pensioni lui è presidente del comitato nazionale giapponese per la riforma della sicurezza sociale e considera la riforma Forniro pur con alcuni suoi inconvenienti e limiti come un benchmark e scusate ma vorrei anche ricordare perché non è presente oggi ma sul poderoso fronte dell'economia e della finanza che abbiamo gestito veramente a squadra con particolare accentuazione poi in ciascuno delle competenze e predisposizioni europee non vorrei che dimenticassimo Vittorio Grilli che prima come viceministro e poi come ministro dell'economia e delle finanze è stato anche fondamentale allora come li ho scelti o come li ho sottoposti al Presidente della Repubblica sulla base di valutazioni della loro capacità in qualche caso dopo aver assunto molte informazioni se non se non conoscevo direttamente una persona che vedevo adatta per quel particolare incarico sulla loro capacità di svolgere un lavoro serio in condizioni di fortissimo di fortissimo stress e devo dire che la consultazione col Presidente della Repubblica e qui mi lasci dire che io sono profondamente grato e per sempre al Presidente Napolitano non tanto per avermi confiato l'incarico di formare il governo perché è stato un attestato di enorme stima ma non è stato un regalo ma per per tutto l'appoggio morale umano che la sua personalità e il suo cuore mi hanno dato e hanno dato a ciascuno di noi in questo compito così difficile pur essendo lo posso anche io certificare estremamente rispettoso delle nostre prerogative costituzionali ebbene quindi da questa consultazione naturalmente sentivo anche i segretari dei tre partiti anche dopo che posso per me ecco no sulla formazione ancora del governo come mai ha tenuto il ministero dell'economia per una fase iniziale oltre a quello di Presidente del Consiglio poi arriviamo ai segretari dei partiti perché questa è stata una decisione abbastanza tutto perché volevo a tutti i costi evitare che ci fossero quei problemi gravi e gravissimi di comunicazione di incomprensione che avevano caratterizzato nel governo precedente i rapporti tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia e delle Finanze pur essendo a volte schizofrenico ho pensato che questi problemi sarebbero stati di minore portale che non è stata io avessi retto le due responsabilità tra parentesi se posso dissociarmi un attimo dal Ministro Barca può aver dato l'impressione con le sue parole il Ministro Barca che l'Europa e forse si potrebbero aggiungere i mercati abbiano fatto cadere il governo precedente al nostro ecco vedo che scuote il capo negativamente perché sappiamo quante polemiche infondate ci sono state sulla origine della fine di quel governo e naturalmente l'Europa i mercati avevano manifestato di avere perso molta fiducia nella capacità del governo italiano di avere una reazione forte e tempestiva come quella che era necessaria ma poi come il Presidente ci ha anche ricordato nella sua lettera c'è stata una dissoluzione dall'interno alla quale ha molto contribuito la qualità del rapporto a un certo momento non più esistente il rapporto tra Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia e delle Finanze poi c'è stata l'altra considerazione che il Presidente Napolitano direi prima di me ha visto e che io ha secondato che se una persona veniva scelta in quel momento come Presidente del Consiglio sotto fortissima pressione della situazione economica perché si riteneva che potesse trasmettere un senso di fiducia all'Europa e ai mercati meglio quella persona impegnarla anche su fronti più esposti di appena minore livello di quello dei capi di governo come sono le cofin l'eurogruppo i rapporti con i mercati e quindi si è convenuto fino a che il grosso della crisi non fosse rientrato che io facessi le due cose cosa che non avrei potuto fare senza un Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze di grande peso competenza già rispettato in Europa come era il Ministro Grilli Adesso ritorniamo veniamo al Presidente della Repubblica in quel momento critico se noi guardiamo oggi dal punto di vista comparativo aveva tre opzioni il Presidente della Repubblica la prima opzione era quella di favorire un governo di grande coalizione alcuni paesi hanno affrontato la crisi salendo tutti intorno nel governo sedendo intorno al tavolo questa strada non è stata presa probabilmente perché vi erano troppe rivalità come diceva lei tra i partiti c'era troppa animosità però questa è un'ipotesi che in qualche modo il Paese poteva perseguire con una classe politica più coesa la seconda opzione è di fare un governo di grande coalizione con un Presidente come lei la strada che ha preso la Grecia di avere un primo ministro greco tecnico però sostenuto con ministri politici la terza ipotesi naturalmente è la strada seguita da altri paesi penso a Portogallo la Slovenia di fare nuove elezioni e quindi la mia ipotesi non esiste quindi per questo è eccezionale perché l'Italia è una strada che nessun'altra democrazia come ci troviamo noi ha preso allora la polemica sul ruolo del Presidente della Repubblica evidentemente è stata proporzionale anche alla responsabilità che il Presidente della Repubblica si è assunto in quel momento quindi vorrei se magari lei ci racconta come sono sviluppati i rapporti tra il Presidente della Repubblica i segretari dei partiti e lei una volta nominati cioè perché non si è riuscita a trovare una delle tre strade evitando evitando un governo di tecnici in senso puro e come lei piano piano ha accettato l'idea di dare vita a un governo che non avesse una chiara identità politica per questo un po' e anche dare al Presidente della Repubblica diciamo così quello che gli si deve dare io credo che si è assunto una responsabilità enorme nel prendere una strada che nessun altro ha preso in quelle condizioni vorrei dire non è che io piano piano ho accettato no quando me l'ha chiesto non ho non è una situazione nella quale onestamente si possa dire di no ho accettato di provare non ero sicuro né di riuscire a formare il governo e men che meno che insieme saremmo riusciti a evitare l'esplosione finanziaria dell'Italia però di provarci gli ho detto gli ho detto subito di sì mi sarebbe sembrato inammissibile non farlo ma io naturalmente non conosco non posso conoscere l'andamento delle consultazioni precedenti il momento in cui sono stato chiamato al Quirinale però nel discorso per gli auguri natalizi del 2011 alle autorità dello Stato al quale il Presidente Napolitano ha fatto riferimento lui era andato molto in dettaglio nello spiegare la nascita di questo governo stando alle dichiarazioni stampa alle varie indiscrezioni alle cose che si leggevano all'epoca nessuno ha mai considerato lontanamente plausibile l'ipotesi che ci fosse un governo a guida politica diversa dal Presidente del Consiglio allora in carica Onorevole Berlusconi perché un altro esponente del centro-destra non sarebbe stato verosimile un un esponente del centro o della sinistra credo che avrebbe dissuaso il Presidente Berlusconi dall'assumere responsabilmente l'atteggiamento che poi ha portato alle sue dimissioni quindi non so per gli altri paesi ma non credo che nella situazione italiana di quel momento fosse concretamente immaginabile un'ipotesi di questo genere il Capo dello Stato peraltro non mi ha posto paletti che indicassero che io non potessi provare a avere ministri di estrazione politica nel governo tant'è vero che ci ho provato poi non ci sono riuscito ripeto con vantaggi e svantaggi anche vantaggi e e quindi vorrei però siccome appunto ci sono state tante tante reinterpretazioni io penso che sia normalissimo che la politica cambi posizione al cambiare degli eventi all'avvicinarsi delle scadenze elettorali eccetera considero inaccettabile che cambi la verità storica e 15 novembre 2011 consultazioni per la formazione del governo uno dei tanti giornali dell'epoca racconta della delegazione del PD guidata da Pierluigi Bersani poi segnali positivi su un'ipotesi di governo Monti segnali positivi anche dal leader PDL Angelino Alfano che assieme a Gasparri e Cicchitto ha spiegato che il tentativo di Monti è destinato a buon esito il PDL ha però sottolineato che gli impegni assunti con l'Europa Fabrizio Barca ha parlato della lettera del 26 o 27 ottobre ha però sottolineato che gli impegni assunti con l'Europa rappresentano il caposaldo dell'appoggio programmatico del partito di via dell'umiltà al futuro governo quindi appoggio ma dando come mandato essenziale l'adempimento degli impegni presi dal precedente governo nei confronti dell'Europa qui approfitto per dire che non siamo mai fatti guidare dalla lettera Trisce Draghi io pubblicamente ho scritto in quell'estate che non considero istituzionalmente rilevante quella lettera è un ford'opera per la Banca Centrale Europea nella forma istituzionale e anche nella sostanza i meccanismi di sostegno finanziario apprestati allora per l'Italia e per la Spagna si sono dimostrati del tutto inefficaci perché non hanno minimamente condizionato come avrebbero voluto le politiche economiche di Spagna e Italia tant'è vero che poi sono stati dismessi quindi non ho naturalmente i contenuti di quella lettera che coincidono largamente con i contenuti della lettera italiana degli impegni italiani all'Unione Europea però alle istituzioni europee non alla Banca Centrale Europea li condividevo come li condividevamo tutti la necessità di una riforma nei diversi campi eccetera ma ecco è interessante questo ricordo sul fatto che quel partito che ha avuto il maggiore aspetto di generosità in quel momento nel avere il proprio capo che ha fatto un passo indietro di fronte alla constatata impossibilità di gestire quella situazione ha appoggiato un nuovo governo purché gli impegni con l'Europa fossero in primo piano poi naturalmente siamo stati viceversa accusati da molti ma soprattutto da quel partito di avere troppo accondisceso alle priorità europee ma ancora quasi un anno dopo il il 24 ottobre del 2012 in un video messaggio che è rimasto 25 ottobre chiedo scusa Berlusconi annuncia di non ricandidarsi e racconta la situazione di un anno prima dell'ottobre novembre del 2011 qui siamo il 25 ottobre del 2012 ma da questa sindrome di denigrazioni di legittimazioni eccetera che non hanno fatto il bene dell'Italia ma da questa sindrome infine rivelatasi paralizzante siamo infine usciti con la scelta responsabile parla e lo si vede nel video con la scelta responsabile fatta giusto un anno fa con molta sofferenza ma con altrettanta consapevolezza di affidare la guida provvisoria del paese in attesa delle elezioni politiche al senatore e tecnico Mario Monti espressione di un paese che non ha mai voluto partecipare alla caccia alle streghe il presidente del consiglio e i suoi collaboratori io direi colleghi hanno fatto quel che hanno potuto cioè molto nella situazione istituzionale eccetera ci sono state difficoltà ma la direzione riformatrice e liberale è stata sostanzialmente chiara e quindi è inutile andare a cercare testimonianze indirette qui con grande schiettezza e grande senso di responsabilità l'autore di quel passo indietro spiega come perché sia avvenuto e credo che questo dovrebbe essere maggiormente ricordato dagli italiani anche ad evitare che l'opera così disinteressata fatta anche in quell'occasione dal presidente napolitano possa essere retrospettivamente e goffamente messa in discussione se mi consente gli avevo parlato che ho trovato una dichiarazione dell'allora ministro degli esteri tedesco Joska Fischer in un libro che è stato tradotto in italiano poco tempo fa Fischer scrive infine la crisi colpì l'Italia parla di quel periodo infine la crisi colpì l'Italia la terza economia dell'eurogruppo il cui debito nello spazio europeo era secondo soltanto la Grecia anche nel caso dell'Italia i mercati finanziari reagirono facendo aumentare drasticamente i tassi di interesse anche se il paese non poteva in nessun modo essere paragonato alla Grecia in quanto si tratta di un paese ricco di valori patrimoniali che dispone di un'economia sensibilmente più forte e anche di istituzioni statali almeno in parte ben funzionanti come ad esempio l'Istituto della Presidenza della Repubblica la Banca d'Italia il Ministero degli Esteri le autorità di sicurezza a ciò si aggiunga che gran parte del debito pubblico era nelle mani degli stessi cittadini italiani l'Italia tuttavia era chiaramente troppo grande per misure di salvataggio provenienti dall'esterno doveva affrontare e risolvere da sole i suoi problemi di gestione e così la crisi finanziaria europea si trasformò definitivamente in una crisi politica sono stati i mercati finanziari che hanno fatto cadere Berlusconi cosa pensa? conferma quello che dice quando evidentemente c'è stata una riconosciuta difficoltà alla fine riconosciuta anche dal Presidente del Consiglio di gestione di una situazione che si era resa così difficile anche per la tempesta nei mercati con particolare riguardo all'Italia io per fortuna l'ho appreso dopo ma quando siamo entrati in carica noi la probabilità di default dello Stato italiano implicita nello spread era di circa il 40% quindi evidentemente tutto questo addensarsi di nubi ha creato ancora maggiori tensioni nella funzionalità del governo e poi non credo che occorra quindi ricorrere a dei short cuts a delle scorciatoie dirette per cui sarebbero state forze imperscruttabili e indefinibili a determinare le dimissioni del governo è stata la difficoltà in particolare tutti sapevano che in materia di pensioni bisognava agire però c'era un dissenso insanabile tra PDL e la Lega quindi tra due componenti essenziali della maggioranza di allora allora adesso veniamo più nel merito della gestione del governo lei ha detto non siamo stati condizionati dalla troica come altri paesi che hanno dovuto accettare condizioni non siamo stati governati dall'esterno diciamo così che vi portavo prima questa denuncia che è stata fatta che voi avete messo a disposizione le vostre competenze tecniche per decisioni politiche prese altrove contemporaneamente i partiti non vi hanno aiutati nel rendere più evidente all'opinione pubblica quello che facevate l'ha detto Fabrizio Barca l'ha detto Elsa Fornero ma i partiti cosa facevano in quel periodo vi condizionavano vi telefonavano vi cercavano quando portavate un provvedimento in Parlamento prima parlavo con Fabrizio Saccomanni che è qua che dice ma la mia esperienza di Ministro del Tesoro è un'esperienza molto pessimista perché quando io definivo in particolare la legge di bilancio entrava in Parlamento la cosa era molto diversa da com'è io l'avevo presentato una volta che usciva ora in questo caso specifico i partiti la precostituita ce l'aveva nel vostro caso come come il rapporto con i partiti i politici i backbenchers quelli che stavano nel Parlamento come ha funzionato anzitutto grazie di aver ricordato la troica perché nel il nella demagogica maionese di molti talk show chi in Italia applica perché è inevitabile farlo in certe circostanze misure dure che io non ho mai chiamato di austerità viene identificato con la troica con i poteri forti e restiamo a cose non occulte questo fa un po' di tristezza perché con il grande sforzo del paese guidato dal Parlamento su impulso del governo gli italiani hanno evitato la troica l'Italia è l'unico paese dell'Europa meridionale che si è salvato con le proprie forze facendo appello a se stesso che non ha chiesto aiuti né all'Unione Europea né al Fondo Monetario Internazionale che per loro tranquillità volevano darci aiuti finanziari noi non li abbiamo e questa è stata io mi aspettavo poi la domanda non ci sarà tempo quali sono state due o tre cose due o tre decisioni cruciali beh la prima è stata questa che non ha niente di tecnico se noi non abbiamo chiesto non abbiamo accettato di chiedere aiuti finanziari è perché siamo stati convinti che naturalmente abbiamo corso un grosso rischio perché potevamo anche non farcela però se avessimo chiesto e ottenuto aiuti finanziari per 5, 10 15 anni qualsiasi governo italiano andasse in Europa avrebbe dovuto tenere lo sguardo chino e certamente l'Italia avrebbe perso una capacità propositiva invece è importantissimo per l'Italia e per l'Europa che l'Italia abbia e in più avremmo avuto credo con una troica in casa una un ulteriore aumento dell'ostilità degli italiani nei confronti dell'Unione Europea in una fase in cui già diciamo non c'è bisogno di questi fattori per accrescerlo quindi fa un po' specie essere considerati troica o similtroica di tedesco come un articolo di un giornale accetto perché perché un po' di tedeschità corre in Italia e però vorrei citare qui quello che è stato detto prima da Enzo Moavro sul pari il secondo dei passaggi cioè noi che una facile vulgata interna a scopi politici ha presentato come subordinati alla Germania beh siamo stati gli unici che hanno causato un momento insomma il mattino del 29 giugno del 2012 finito il vertice notturno dell'Eurozona per la prima volta la stampa tedesca ha scritto e questo lungi dal farmi piacere mi ha imbarazzato l'Italia ha battuto la Germania e non si riferivano solo alla partita di semifinale del campionato europeo ma all'esito e poi abbiamo avuto per fortuna c'era qui previsto a Roma la settimana dopo un bilaterale Italia Germania abbiamo potuto fraternizzare di nuovo ma quindi le banche siamo anche amici delle banche siamo stati amici delle banche sui prestiti fatti al Monte Paschi di Siena abbiamo fatto fare un ottimo affare a tesoro con gli interessi così alti che sono stati praticati e abbiamo diciamo eliminato i cosiddetti salotti buoni di intrecci di posizioni in consigli di amministrazione tra banche finanze eccetera tra banche società d'assicurazioni però ecco ma scrostiamo pure da questi luoghi comuni facili dove eravamo i partiti seguivano questa questa vostra iniziativa i partiti avevano il grosso pregio di appoggiarci senza gridarlo troppo ma di appoggiarci avevano il grosso inconveniente che ci facevano perdere una quantità di tempo perché quello che sarebbe umano fare e cioè che il presidente del consiglio invita abc gli onorevoli Alfano Bersani Casini due dei quali fumano sigari la cosa di li invita per fare una riunione diciamo della maggioranza non del governo perché non ne fanno parte ma della maggioranza per discutere le cose che poi verranno portate in Parlamento questo è un passaggio indispensabile solo che dovevamo farlo tre volte perché appunto non potevano entrare a Palazzo Chigi insieme a coppie di due a due quindi era estremamente dispersivo questo è andato avanti per due mesi poi noi così europeisti abbiamo detto beh ma cerchiamo un argomento sul quale le polemiche interne possano essere un pochino assopite e proviamo a invitarli tutte e tre insieme allora nel gennaio del 2012 abbiamo deciso anzitutto di inaugurare la prassi di andare in Parlamento prima di andare al Consiglio Europeo che adesso viene puntualmente seguita anche perché non è giusto che solo la signora Merkel possa dire al tavolo del Consiglio Europeo ma io ho il Parlamento che non mi lascia andare più al di là di tanto no tutti abbiamo il Parlamento e adesso il Parlamento ha preso molto questa funzione gli piace ed è bene anche per il governo allora per preparare la posizione nel Consiglio Europeo di gennaio febbraio del 2012 abbiamo fatto appello al fatto che l'Europa era un tema al di sopra delle parti e sono venuti per la prima volta insieme e così si è un po' rotto il ghiaccio però insomma il dialogo con i partiti c'era naturalmente non possiamo nasconderci immagino che verrà fuori il tema della efficacia decrescente al passare del tempo ecco perché quello che gli osservatori rilevano è che i primi tre mesi avete avuto una sorta di luna di miele siete riusciti a fare molte cose la possessa Fornero è riusciti a avanzare con la sua riforma delle pensioni poi inizia una fase in cui appunto il governo ha un rendimento decrescente la proposta di riforma del mercato del lavoro è molto meno efficace della riforma delle pensioni che cosa è successo cioè che come mai c'è una fase è la normale regolare ciclo politico per cui anche il presidente degli Stati Uniti ha una fase iniziale di luna di miele e poi inizia è vero questa osservazione che viene fatta da più parti che il suo governo è stato molto meno efficace dopo i primi tre o quattro mesi ha cominciato a incontrare più difficoltà più resistenza in Parlamento più resistenza all'opinione pubblica l'opinione pubblica è quella che ci preoccupava meno tutto sommato però è vero che in Parlamento secondo me è il risultato quasi ineluttabile di due forze in gioco prima di tutto l'emergenza finanziaria veniva contenuta e certe decisioni purtroppo in questo i nordici hanno ragione certe decisioni si prendono solo si prendono più facilmente se c'è un sacro terrore di quello che succederebbe non prendendole cosa che va molto osservata oggi perché bisogna stare attenti a non utilizzare male questi momenti adesso di straordinariamente favorevole configurazione economica finanziaria internazionale terrorismo a parte come tassi prezzo del petrolio cambio dell'euro eccetera perché se si vede che i paesi potendo adesso respirare molto di più respirano molto di più e non proseguono con pari intensità lo sforzo di risanamento e delle riforme strutturali allora gli avversari di Draghi prendono fiato loro e dicono vedi che se gli dai finanziaria riducono gli sforzi comunque c'era sicuramente il fatto che l'emergenza fortunatamente lentamente recedeva poi ha accelerato la sua scomparsa l'emergenza quando c'è stato quel puntatacco tra summit dell'eurozona e banca centrale europea da cui abbiamo già accennato la seconda circostanza altrettanto di fisica semplice ogni mese che passava le elezioni si avvicinavano di un mese sia che avessero luogo e nessuno ancora lo sapeva alla scadenza naturale sia che ci potesse essere una scadenza anticipata e quindi il senso di responsabilità di partiti terrorizzati dall'emergenza finanziaria che si attenua un po' all'avvicinarsi di elezioni che si avvicinano sempre di più evidentemente fa prevalere più di prima gli interessi elettorali normali una terza circostanza che vale particolarmente per le materie gestite dal ministro Fornero la possibilità per noi di utilizzare la forma del decreto legge che richiede insomma requisiti di necessità e urgenza rimessi all'apprezzamento del capo dello Stato evidentemente con il superarsi dell'emergenza potevano essere meno giustificati quindi abbiamo avuto la possibilità per esempio di includere la riforma delle pensioni che pure è la più grande delle riforme strutturali e non ha certamente una portata solo di provvedimento di emergenza nel cosiddetto salva Italia che ha fruito della via del decreto legge non così per la riforma del lavoro che quindi ha dovuto passare molto più tempo in Parlamento in un Parlamento diventato molto più sensibile ai problemi dell'avvicinarsi delle elezioni e quindi mentre saremmo stati molto soddisfatti se il disegno di legge che noi abbiamo licenziato come governo fosse uscito intatto dal Parlamento abbiamo lasciato molte cose sul percorso perché in quel caso c'era il PD di Bersani che appoggiava molto il governo in altre cose che però sulla riforma del mercato del lavoro mentre il PDL ci chiedeva di andare oltre e l'avremmo fatto volentieri frenava poi Matteo Renzi ha preso il controllo del partito che su quella riforma frenava e ha potuto farla nel frattempo c'è stato l'incidente degli esodati che ha reso difficile il governo proseguire sul piano come mai è successa questa cosa cosa è avvenuto vediamo alla professoressa Fornero che è ancora presente quello non va non va esagerato al di là delle sue dimensioni basta leggere diversi interventi del senatore professore Ichino per rendersi conto che è un passaggio in qualche misura inevitabile quando si ritarda di troppi anni una riforma strutturale delle pensioni comunque visto che è stata è ancora presente non vorrei toglierle questo ghiotto oggetto di di precisazione comunque non è stato quello secondo me comunque quello è legato alla riforma delle pensioni che è avvenuta subito all'inizio per lasciare poi magari lo spazio un attimo a Elsa Fornero si avvicinano le scusa però però non è che intanto non si facessero altre riforme di segno meno palesemente economicistico i ministri che prima sono intervenuti dal ministro della difesa al ministro della giustizia al ministro della sanità hanno tutti menzionato riforme strutturali che sono avvenute poi nei mesi successivi di forte incidenza come la geografia dei 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 tribunali come la riforma del modello di difesa come la creazione di una minore presa diretta tra la politica regionale e le nomine dei dirigenti sanitari e dei primari così come quello è stato di giugno non abbiamo potuto fare la riforma della RAI perché non c'era tempo per cambiare la legge però con le nomine fatte e con la modifica a certi aspetti dello statuto abbiamo liberato presidente e direttore generale della RAI da un vassallaggio minuto nei confronti dei partiti rappresentati in consiglio di amministrazione di cui anche l'attuale management della RAI e sottigliezza di tutte le riforme una aveva la singolare caratteristica che all'avvicinarsi delle elezioni si rafforzava la posizione del governo non quella dei partiti e cioè la legge anticorruzione col corollario sulle incompatibilità e ineleggibilità e l'abbiamo portata in porto certamente non in modo indolore neanche per il governo il 6 dicembre 2012 con l'adozione in consiglio dei ministri del decreto legislativo che precisava ed era un'iniziativa Severino Cancellieri Patroni Griffi e Monti che precisava diciamo i parametri delle ineleggibilità e incompatibilità che poi hanno avuto le elezioni e quella è una riforma che paradossalmente all'avvicinarsi delle elezioni sarebbe diventata estremamente imbarazzante da bloccare per i partiti perché all'avvicinarsi delle elezioni l'esigenza di avere un Parlamento pulito veniva colta sempre più ampiamente quindi abbiamo anche cercato e qui voglio dire una parola noi non non so se abbiamo fatto politica o no ma abbiamo fatto abbiamo cercato di fare una cosa che non è tecnica non credo che esistano i tecnici della serietà e certamente non avevamo nessun titolo noi per esserlo però essere diciamo sganciati dall'ansia elettorale sicuramente consente una prospettiva un po' più svincolata e credo che abbiamo cercato di dare un contributo che adesso sta continuando tra l'altro nelle applicazioni successive alla alla maggiore articolazione tra spazi occupati dalla politica che è giusto che siano occupati dalla politica e altri altri spazi abbiamo parlato del delle delle della rai o delle nomine ma per esempio abbiamo introdotto mi corregga il sottosegretario Catricalà la Corte dei Conti sui bilanci delle regioni e non è che non si è emerso niente a seguito di questo provvedimento le misure già nel Salva Italia per la totale trasparenza al fisco delle operazioni finanziarie che che poi consente ovviamente una seria lotta all'evasione sono di allora abbiamo scelto pur avendo un disperato bisogno di soldi in quei primi mesi soprattutto abbiamo scelto di non fare nessun condono né piccolo né grande e quando i partiti di loro stavano facendo nel Parlamento un condonino sulle multe per aver affisso come fanno ogni volta dopo le elezioni locali eccetera per aver affisso al di fuori dei bordi sui manifesti elettorali e sui cartelloni elettorali i loro manifesti abbiamo fatto sapere che ritenevamo non in linea con i tempi che ci fosse questo autocondono e infatti l'hanno tolto quindi l'ideale è che ci siano politici eletti che siano così consapevoli della loro alta missione da non considerare che si possa scendere al di sotto di certi livelli di serietà per avere i voti mi porta all'ultima domanda lei ha fatto il suo governo ha fatto delle riforme importanti comunque le si valuti le quali hanno creato costi sociali mobilitazioni critiche contemporaneamente anche hanno soddisfatto le richieste che venivano da un'ampia parte dell'opinione pubblica però non organizzata perché l'Italia si salvasse perché una volta che l'avete salvata lei non si è ritirato nel suo orto ad aspettare che la chiamassero per un altro incarico pubblico e evitasse di politicizzare presentandosi invece in campagna elettorale con gli altri partiti di politicizzare quell'esperienza di governo se non addirittura di prendere in qualche modo la distanza da alcune delle scelte che sono più si sono rivelati più costose sul piano elettorale qual è la ragione che ha portato Mario Monti a scegliere di dar vita a un nuovo partito di diventare di sciogliere quell'ambiguità di cui lei parlava prima tra tecnico e politico di diventare un politico che va in televisione che va a fare campagna elettorale eccetera perché ha fatto una scelta di questo tipo non so se lo può dire qui in un modo ho detto altre volte e risponderei come molti miei colleghi hanno risposto alla domanda lo rifarebbe con riferimento all'accettare di far parte del governo questa cosa qui la rifarei le darebbe vita ad un partito e correrebbe per le elezioni e è anche un invito ai politologi ma soprattutto ai media a non escludere a priori che nella vita pubblica possa esistere un senso dell'interesse generale che in qualche caso vada al di là dell'interesse particolare e se noi guardiamo i media i più sapienti commentatori della politica biasimo continuo per la bassa qualità del servizio alla cosa pubblica però poi nel descrivere le gesta di questo o quel politico un solo parametro è rilevante per apprezzarlo o meno e per additarlo con compiacimento o con disprezzo al lettore il grado di successo che quel politico ha nel conquistare il potere nel mantenere il potere nell'escludere altri dal suo potere benissimo questa è una cosa direi tecnica che i politici apprezzano molto da sempre ma l'eventualità che uno faccia una cosa che sa essere contro il suo interesse personale ma che pensa a ragione o a torto che possa essere nell'interesse del paese non viene neanche contemplata ebbene è ovvio che per me non è stato un sacrificio fare il presidente del consiglio anche se è stato difficilissimo e potevamo fallire tutti facevo una cosa che era congeniale al mio spirito di persone al di fuori delle parti non dico al di sopra delle parti era profondamente contro il mio spirito diventare parte e sapere che avrei avuto un improvviso e durevole abbassamento del mio standing va bene ma ho veramente valutato quali sarebbero state le conseguenze perché io bene o male avevo mi era stato affidato ci era stato affidato un paese al quale avevamo chiesto anche molti sacrifici per raddrizzarlo e avendo evitato il default finanziario ma solo avviato le riforme strutturali che sarebbero state necessarie per la crescita e per una società meno corrotta con meno evasione eccetera quando si sono avvicinate le elezioni io continuando a non avere simpatie o antipatie per la destra rispetto alla sinistra ma avendo una visione molto politica di qual è il bene e di qual è il male per l'Italia secondo me ritenendo che il bene dell'Italia consistesse continuare possibilmente facendo meglio quello che noi avevamo cominciato a fare cioè più attenzione ai conti in ordine non perché lo vuole l'Europa ma perché lo vogliono nei nostri figli e nei nostri nipoti riforme strutturali per cercare di essere più competitivi appartenenza attiva proattiva sia all'Unione europea sia all'euro che scenario vedevo davanti a me a noi dopo la fine del governo vedevo elezioni dalle quali aveva tutta l'aria di uscire o una coalizione di centrodestra lo dico nel modo più assettico possibile Berlusconi lega fratelli d'Italia che allora non c'era ma era sì sì è nato durante il nostro governo oppure una coalizione di centro-sinistra guidata dall'onorevole Bersani con cui il rapporto è sempre stato ottimo ma con un fortissimo condizionamento di persone altrettanto rispettabili ma con una visione del mondo dell'Europa profondamente diversa dalla mia e tecnico o non tecnico posso avere la mia visione di qual è l'interesse dell'Italia Bersani fascina Vendola Camusso Landini si può preferire l'uno o l'altra alternativa ma in comune avevano le seguenti cose poca garanzia di volere avere l'equilibrio dei conti pubblici oltre che della capacità di perseguirlo nessuna garanzia e anzi quasi certezza di passi indietro sulle riforme strutturali come il mercato del lavoro come le liberalizzazioni la concorrenza eccetera contestazione che poi è diventata ancora più aperta di quanto io prevedessi dell'euro e disprezzo per l'Unione Europea allora queste erano le cose per le quali noi eravamo stati chiamati a governare abbiamo governato abbiamo tenuto rimesso non so l'Italia su questa carreggiata allora da una parte avevo il prestigio di Mario Monti cincinnato dall'altra parte avevo quei fatti concreti che potevano essere determinanti per l'Italia con buona pace dei commentatori politici non è che io sia così stupido da non rendermi conto che il mio interesse andava in una direzione ma mi sembra che se uno ha avuto la straordinaria fortuna di essere chiamato a una posizione di tale potere prestigio nel mondo eccetera oltre che in Italia ha anche il dovere di tenere presente qual è a suo giudizio il bene dell'Italia allora l'esito brillante modesto ridicolo trionfale ognuno dica quello che vuole della formazione con la quale non ho più niente a che fare perché sono completamente uscito dalla politica attiva ma ci sono stato il tempo necessario per mettere in campo quella forza o quel 10% all'incirca c'è stato il risultato matematico che né la coalizione di centrosinistra né la coalizione di centrodestra hanno potuto formare una maggioranza dice ma ti sei sprecato solo per impedire ad altri di vincere no spero che il risultato sia stato un po' più importante perché così facendo poi nella fattispecie siccome la formazione politica ha preso più voti da destra che da sinistra la parte guidata dall'onorevole Berlusconi che ne ha sofferto e lui diceva in un'intervista alla stampa il 18 settembre 2014 prima dava la colpa a Tremonti per un complotto prima della fine del suo governo se invece ho perso le elezioni del 2013 la colpa è di Mario Monti il quale se si fosse alleato con il centrodestra come gli avevamo proposto avrebbe cambiato l'esito delle urne invece Monti alle elezioni andò da solo con scelta civica e la storia della politica italiana è cambiata questo mi sembra un apprezzamento anche eccessivo sta di fatto che l'onorevole Berlusconi avrebbe avuto una maggioranza assoluta sia la Camera sia il Senato sarebbe probabilmente Presidente della Repubblica non avremmo avuto due governi che io considero e spero più bravi del nostro ma in una notevolissima linea di continuità credo che il Ministro Saccomanni è ancora qui possa confermarlo che sono stati nel solco europeo con attenzione certo quando le cose vanno meglio forse è naturale essere un po' meno ossessivamente attenti agli equilibri della finanza pubblica con il gusto la volontà la capacità in qualche misura di perseguire le riforme strutturali e tutte le riforme più settoriali che i miei ministri hanno prima elencato sono in corso di avanzamento l'Italia oggi sarebbe diversa senza questo passo io sono contento di averlo fatto grazie grazie